Ben tornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La depressione atlantica, che ha portato piogge e neve al nord Italia e rovesce anche intensi sul terreno, si sta spostando verso est, indebolendosi. La sua traslazione verso oriente richiamerà correnti più fredde dai Balcani, con un cospicuo calo delle temperature ovunque, soprattutto sul sud, che negli ultimi giorni ha fatto i conti con correnti miti occidentali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 7 febbraio. Al mattino qualche nube nelle zone interne, con tempo per lo più variabile. Durante la mattinata deboli rovesci sparsi potranno interessare il Salento. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità da est, con deboli rovesci a tratti moderati dal pomeriggio sera. Rovesci che interesseranno in gran parte la Puglia centro-settentrionale e in minor misura la Basilicata. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in ulteriore diminuzione di 2-3 gradi nei valori massimi, 1-2 gradi nei valori minimi. Venti deboli al mattino e rinforzo dai quadranti nord-orientali entro pomeriggio sera. Mari poco mossi al mattino con motondosi in aumento entro sera, sia per quanto riguarda l'Adriatico che lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia per questo splendido scatto di Castelluccio Valmaggiore nel Foggiano, una perla incastonata sul suo bappennino Dauno. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.